Sì, è stato un gioco di sotto, sempre il Dix, sempre quello che fa. non ho sentito più nessuno vediamo chi c'è rimasto qua chi è che c'è rimasto in frequenza chi è la trottola? sei tu che ci sei trottola? oh di torino a guarda il bullet chi è che ha detto apritami l'audio? è lungo scopri 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.